Grazie a tutti. 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 Mi chiamo Daniela, sono un'allieva di Alessandro Federico e insegno al corso Bimbi a Bolzano. Sono Walter Klasser, insegno a Livez, in collaborazione con la palestra Video Club Livez e sono allievo di Alessandro Federico della Brasiglia di Gioci Boltano. Sono Marco Manara, insegno a Trento, nella palestra MMA Eagles, sia MMA che BJJ. Faccio parte del network Luttador d'Elite di Gioci Boltano dal 2008. Sono Alessandro Peresan, insegno alla Tisana da otto anni e faccio parte del Gioci Boltano da 14 anni. Sono Martina Baraccani, vengo dall'Isola d'Elba, precisamente da Porta Azzurro dove insegno da ormai tre anni. Faccio parte del network Luttador d'Elite di Gioci Boltano e oggi è veramente una bella giornata perché erano anni che non mi succedeva di partecipare a una stage così bella. Mi chiamo Mario Strenkwalder, mi alleno da vent'anni con Alessandro Federico e insegno alla filiale di Livez. Mi chiamo Bonaldo Francesco, faccio parte del network Luttador d'Elite sotto la filiale del maestro Alessandro Federico di Boltano e insegno nella filiale di Venezia, presso la Combat Academy di Venezia. Sono Marco Gennaro, faccio parte del network Luttador d'Elite sotto il maestro Alessandro Federico, insegno a Chioggia. Sono Filippo Fontana, network Luttador d'Elite, maestro Alessandro Federico, Gressi Bolzano. La mia filiale è a Castel San Giovanni, sono responsabile del corso adulti. Sono Marika Tosca, del Luttador d'Elite Academy, Gressi Giugizio Bolzano. Il mio maestro è Filippo Fontana, faccio parte dell'Accademia di Castel San Giovanni, Piacenza e sono responsabile del settore bambini. Mi chiamo Emanuele Baldanti, faccio parte del Luttador d'Elite Network, filiale Gressi Bolzano e insegno alla Yamarashi a Piacenza. Musica Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.